Gli ho stretto la mano, mi sono presentata, ho accolto il suo sorriso e questo è quello che mi porto. L'avevo conosciuto perché era un chiarichetto, quando avevo 10-11 anni, quando tornava dall'Africa ed era qui presente a Ronago, al servizio della Santa Messa. Chi lo conosceva di persona, chi solamente attraverso i racconti di parenti e conoscenti. A due giorni dalla data fissata per la beatificazione, a Ronago, in provincia di Como, in molti ricordano padre Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario comboniano, che ha dedicato la vita ad aiutare il prossimo. Poi, dato che io abitavo di fronte a ditta Ambrosoli, mio papà era un contadino e ho due mucche, e portavamo là all'ante a Ambrosoli. Una volta so che mia sorella è andata là e forse ha incontrato padre Giuseppe e è venuta a casa con un uccellino, quelli che si mettono l'acqua e che poi si fischia, che al giorno d'oggi nessuno guarda, per noi era bellissimo. In Africa Ambrosoli si spese per ridurre le sofferenze di madri e bambini in difficoltà e proprio per loro fondò e costruì l'ospedale di Calungo. Io sono ronaghese di nascita e mio papà ha vissuto a Ronago fin quando sono nata io e di padre Ambrosoli mi ha sempre raccontato simpaticamente, soprattutto quando giocava a pallone con lui in oratorio. E naturalmente io poi ho seguito le vicende e l'impegno, la generosità, l'umanità, la competenza di padre Ambrosoli che ha lasciato il suo paese. Ha lasciato anche una situazione di famiglia che poteva offrire a lui un'attività importante nella loro impresa di famiglia, la ditta Ambrosoli Caramelle, famosa nel mondo credo, e ha dedicato la sua vita agli altri. Attraverso queste testimonianze anche i più piccoli di Ronago, oggi troppo piccoli per conoscere padre Ambrosoli, potranno comprenderne l'importanza per la comunità. Partendo da questi addobbi che vedete, i nostri bimbi si sono già accorti che c'è festa, ma non sanno per chi. Per cui dalla prossima settimana organizziamo per loro un percorso giocoso, una caccia al tesoro, che faranno per le vie del nostro paese, dove andranno da persone o in luoghi attraverso indovinelli e lì troveranno degli indizi che richiamano la figura di padre Giuseppe. Grazie. Grazie. Grazie.